Ciao a tutti ragazzi sono Andrew Rozza e bentornati sul canale Oggi ragazzi un nuovo video recensione di un manga che è uscito a fine novembre Ma che ovviamente vi porto adesso E vi parlo un pochettino del primo numero perché vi suggerisco secondo me che vale la pena proseguire L'ho letto, il primo mi è piaciuto tantissimo Ma ovviamente andiamo con ordine Per prima cosa ragazzi se non siete iscritti al canale è giunto il momento di cliccare in basso a destra E supportarmi perché vedo che vi state iscrivendo un po' e vi ringrazio agli ultimi iscritti Ma ovviamente continuo la corsa per arrivare ai 500 che non sarebbe male Un bel traguardo i 500 iscritti e spero di arrivarci magari all'inizio 2023 Ma prima di continuare ragazzi vi ricordo ovviamente anche vi potete seguire su Instagram oppure iscrivervi sul gruppo Telegram Ma a voi la scelta Pubblico comunque un po' di cose E ovviamente ragazzi adesso sigla e poi partiamo con il video Allora ragazzi eccoci qua di ritorno e sono pronto per presentarvi un manga che avete già visto nel video acquisti di dicembre E che se siete stati attenti ve l'avevo detto Ovviamente ragazzi parliamo di finché è morte non ci separi Un manga dalla tematica seinen fatto da Taro Nojizaka Quindi ragazzi per il pubblico ovviamente adulto anche perché è una storia abbastanza particolare Fatta di intrighi, thriller, serial killer Molto brevemente ragazzi senza andare a fare troppi spoiler abbiamo il protagonista che si chiama Arata Natsume Che lavora in un ufficio che si occupa di servizi sociali in particolare per i minori E si vede catapultato a dover andare a parlare con una donna, ragazza, giovane Che è una serial killer o almeno così all'apparenza pare Questa Shinagawa che è conosciuta come Shinagawa Pierrot Ossia appunto l'assassino e la serial killer che ha eliminato diversi uomini tagliando parti del corpo Quindi nascondendoli Quindi lui si ritrova lì perché è il figlio di una delle vittime Ha iniziato una corrispondenza perché vuole ritrovare purtroppo una parte del corpo mancante del pane Quindi un manga molto molto bello, crudo La storia psicologica è interessante proprio perché il nostro protagonista Arata Finisce appunto a parlare con Shinagawa appunto nel carcere E lui le propone addirittura per poter continuare l'investigazione di sposarla Quindi ora lui è entrato in una girandola di problematiche Da cui difficilmente potrà uscirne velocemente È un manga molto interessante soprattutto perché si studia L'autore studia molto la psicologia di quella che è della serial killer O perlomeno ci viene presentato un po' con multipersonalità almeno dall'inizio Una buona innocente, una invece un po' più calcolatrice E ne vedremo secondo me delle belle È un manga seinen, io credo che comunque lo seguirò perché è molto interessante Tra l'altro i disegni sono molto belli E ve ne faccio vedere alcuni qua Guardate anche il disegno appunto suo della ragazza che è molto particolare Guardate qua ad esempio il momento clou È molto molto particolare Poi oltretutto lei guardate qua Questo è molto inquietante quella scena Lui comunque Arata pensa che lei non debba uscire Comunque lei è condannata a morte Invece lei è super convinta che adesso che si può sposare con lui possa uscire Quindi ragazzi è un manga che secondo me sarà ben strutturato È un autore di cui comunque non avevo mai letto nulla Però ne parlavano bene anche alcuni miei amici Per cui sono molto curioso L'ho preso perché mi sono dato anche i seinen Un pochettino per ampliare Per passare un po' quelli che erano I manga battle shonen eccetera E ve lo volevo provare Ha recensivante è uscito già Lo trovate In fumetteria ma anche Comunque sul sito Edito da Star Comics in Italia E a gennaio ragazzi il numero 2 Per cui lo prenderò Poi magari eventualmente Come per anche Dandadan Vi darò gli aggiornamenti in seguito Anche per capire se effettivamente Vi sto proseguendo o no Per cui ragazzi questo è un video un po' più corto Però vi ho voluto presentare un manga Che secondo me vale la pena di proseguire Anche per questi aspetti Se vi piace sicuramente Thriller un po' psicologico Delitti, misteri Cioè misteri non tanto Però l'investigazione ci sta E ragazzi Nelle prossime episodi dei manga Eccetera Faremo un focus anche su Detective Conan Su però Come lo vedono i giapponesi Rispetto a una collezione italiana Che è fatta di centinaia di numeri Per cui ragazzi Per questo video è veramente tutto E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao